Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. Aria più fresca, instabile, proveniente dall'est Europa, pian piano coinvolgerà la nostra penisola e raggiungerà l'apice tra venerdì e domenica quando una massa d'aria molto fresca e isolata si fionderà sulla nostra penisola e darà luogo a tanti temporali e a un sensibile caro termico da nord-sud. Per quanto riguarda questo giovedì, ancora una giornata molto instabile durante le ore pomeridiane e le prime ore della sera, quindi ancora possibilità di temporali, locali pioggia, carattere di nufferaggio e anche qualche chicco di grandine nei settori interni. Quindi le aree più interne in Appennino, la Marsical, anche la Conca Aquilana, l'Alto Sangro, l'Alto Vastese faranno i conti con questa instabilità pomeridiana più stabile man mano che ci muoviamo verso le coste. Un po' di sole, un po' di nubi però senza particolari fenomeni annessi. Le temperature in ulteriore lieve calo massime tra i 26 e i 30 gradi, minime tra 16 e 22 gradi, quindi parliamo di almeno 5 o 6 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo appuntamento. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni